Quello che vedete è il segno dell'altezza raggiunto dall'acqua del fiume Tanaro, venerdì sera, ore 21, meno di 40 centimetri dall'esondazione. Il giorno dopo sono stati giorni di intenso lavoro per gli uomini della protezione civile dei vigili fuoco, dei tanti volontari e delle forze dell'ordine accorsi a medicare le ferite, per fortuna non gravi, causate dal maltempo e da una violenta trascimazione dei fiumi. Sabato e domenica scorsi sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza di una parte degli argini, quelli che hanno retto alla violenza dell'acqua, ma che in alcuni punti hanno mostrato anche qualche fragilità, soprattutto fra il ponte Perovia ed il ponte Tiziano, dove per due giorni, oltre a smuovere i detriti che viaggiavano veloci come siluri, è stato svuotato e riaperto al traffico anche il sottopasso che collega la città al sobborgo di Casalbagliano. Ruspe e trattori che per esigenza si sportavano seguiti da 25 camion carichi di sabbia che hanno fatto la sponda da una riva all'altra dei due fiumi. Tanaro e Bormida ora hanno smesso di far paura. Il ponte Tiziano ed il ponte Meyer, sabato e domenica scorsi, sotto un sole che ha riproposto tutta la maestosità del Meyer, che in una notte si è rivelato un'opera di salvezza, sono stati presi d'assalto da tanta gente, quasi un pellegrinaggio per dire grazie e per non sentirsi più in pericolo.